Cosa diciamo dai 3G? Quando un giornale radio un'ulia di turno manca televisione in pivai oggi e una domanda le ha l'ordine del giorno Cosa diciamo di nuovo anche ai 3G? La fonte più importante delle notizie accorriva con l'egua da lavare e tutta quella sorta di primissie da lì a trovava modo di giocare Un'arrivava a cusci di rente e famiglie una specie di moderno gazzettino purtroppo da tante donne e tante figlie che cominciavano presto da mattino Alle cuscite scritte a brevi treti una storia ancora recente e s'ascordata feta di cose serie e anche decente e di tanta fadiga da scicipare di mei belli ricordi che sono stati in tenaigia o profumo da bucaro Grazie a tutti! Grazie a tutti!